Un successo fondamentale quanto meritato che premia la prova d'orgoglio della squadra di Lucarelli più incisiva e reattiva di fronte a una regina mediocre e priva di idee. La vittoria non fa una grinza come il passivo legittimato dall'ottimo primo tempo, condito da tre clamorose palle-gol, palo interno di Pozzebon compreso, cui è seguita una ripresa meno brillante in cui però il Messina ha avuto il merito di cercare la rete anche quando tutto lasciava presa agire che il match fosse indirizzato verso lo 0-0 finale. Il pesantissimo sigillo personale di Luca Bruno premia la personalità e la qualità di una delle pochissime noteriete della stagione, il raddoppio di Manuel Milinkovic che si sblocca dopo quasi quattro mesi di astinenza con una rete molto bella, motive in vista del prosieguo del campionato, un elemento straordinariamente dotato tecnicamente ma troppo spesso emanescente in una squadra che è quasi sempre mancata in termini di imprevedibilità. Un successo che vale doppio non solo e non tanto per il campanile ma soprattutto per i risvolti in gradatoria, tre punti di platino che consentono ai peloritani di chiudere l'anno solare fuori dalla zona play-out e guadagnare margine su tutte le dirette concorrenti nella lotta per non retrocedere che nell'ultimo turno del 2016 hanno frenato in blocco. Dalla Vibonese che ha perso affondi al Melfi battuto a domicilio dalla Juve Stabia, l'Akragas superato in casa da Lecce al Catanzaro che non è andato oltre lo 0-0 casalingo con la Virtus Francavilla. Nessuno si illuda, i problemi restano come la necessità di una mini rivoluzione dell'organico reclamata anche ieri senza mezze parole da Cristiano Locarelli. Il probabile addio di alcuni big, da De Vito a Pozzebon, ma non si escludono altre partenze eccellenti, rendono ancora più impellente il baro di una razionale quanto risoluta campagna di rafforzamento che non può certamente essere procrastinata alla fase dei saldi di fine mercato. Sarebbe come giocare alla roulette, sfidare la sorte e negli ultimi otto mesi in casa Messina lo si è fatto troppe volte. Grazie.